Amici di Orientiamoci in Cina, abbiamo pensato in questo periodo di quarantena che vi farebbe piacere conoscere, perlomeno in parte, una breve storia della Cina contemporanea. Non la Cina antica, ma la Cina dalla fondazione della Repubblica Cinese, passando attraverso Mao Zedong fino ad arrivare a Deng Xiaoping e all'età moderna. Cercheremo di dare un breve resoconto di che cosa è successo in Cina circa cento anni fa, esattamente novanta anni fa, fino ad arrivare all'età moderna. Seguitela e cercate di poi fare interventi, domandate se avete curiosità. Teniamo presente che una data fondamentale per la Cina è il 1911. Che cosa succede nel 1911? a Wuchang, un paese del medio corso del fiume Yangtze, comincia una rivolta, una rivolta che si propaga nelle principali città della Cina. Perché? Perché proprio a Wuchang? È importante, siamo nella zona del Hunan e Hubei, provincia Hunan, dalla quale proverrà e nascerà poi Mao Zedong. Wuchang era la capitale di quello che veniva chiamato l'esercito, del nuovo esercito, la nuova armata, all'interno del quale vi erano elementi del Ton Menhuei. Il Ton Menhuei era la lega giurata fondata da Sun Yat-sen, ricordatevi questo nome, Sun, perché ritornerà molto e sarà il padre del repubblicanesimo in Cina. Ton Menhuei, questa lega giurata, era stata fondata a Tokyo nel 1905. Aveva la sua base a Wuchang. Da Wuchang parte la rivoluzione che si propaga in diversi città della Cina. Esattamente il 25, quindi il giorno notte di Natale, 25-12 1911, il nostro Sun Yat-sen, che si era rifugiato e viveva in Giappone, nel quale aveva anche studiato, Sun Yat-sen era anche medico, torna in Cina per legarsi alla rivoluzione. Nel febbraio dell'anno successivo, 1912, quindi esattamente dopo 4-5 mesi di rivolte, l'imperatore Pui, l'ultimo imperatore che ricorderete dal famoso film, abdica, potendo però rimanere all'interno della città proibita. La stessa municipalità di Pechino deve in qualche modo pagare una sorta di indennità di vitalizio all'ex imperatore. Ma l'imperatore è fuori dai giochi. La nuova Cina, proclamazione della repubblica. Il Ton Menhuei, la lega giurata, diventa Kuomindang, partito nazionalista cinese. Siamo a un momento storico. La Cina deve in qualche modo risorgere. Sun Yat-sen è una figura fondamentale, è un modernizzatore, è un riformatore, è una persona che guarda all'Occidente senza dimenticare le tradizioni cinesi. Vuole in qualche modo che finisca il soggiogamento dell'impero Qing, un impero che i cinesi non vedono come proprio, in quanto ricordiamo che fanno parte i Qing della dinastia manchuriana, quindi non sono Han, sono considerati degli stranieri, erano considerati dai critici dell'impero Qing. Quindi dicevamo Sun, da una parte modernizzatore, amante di un occidente progressista, che vuole una riforma economica senza un conflitto sociale. L'altro avversario di Sun Yat-sen all'epoca è Yuan Shikai. Yuan Shikai è una figura molto controversa, ma anche esso molto importante. Seguiamo le fasi di Yuan Shikai. Yuan Shikai è ex governatore della provincia dello Shandong, esperto nel commercio. Anche lui riformista, ma sicuramente una persona che contempera sia una parte riformista che una parte conservatrice nel suo modo di vita, nei suoi ideali, nei suoi credo principali. C'è uno scontro tra i due. Sun, inizialmente, che non vuole assumere la leadership del partito del Kuomintang, né tantomeno essere presidente, anche se il popolo lo acclamerebbe tale, cerca di coinvolgere, di cedere in qualche modo la presidenza della Repubblica a Yuan Shikai. Yuan Shikai rifiuta. Yuan Shikai avverserà sempre Sun Yat-sen, due sono nemici giurati, anche perché Yuan Shikai, in qualche modo, nonostante compierà alcune riforme, soprattutto nel sistema della giustizia e per la scolarizzazione, quindi bisogna riconoscere dei meriti di Yuan Shikai, avrà comunque una visione molto autoritaria della Cina, non vorrà mai allargare il consenso a tutto o alla maggior parte del ceto della popolazione e cercherà sempre, quindi, di preservare il ruolo delle elite e soprattutto di avere dalla sua l'esercito. Ricordiamo che Yuan Shikai, che diventerà presidente nel 1913, proverà successivamente a farsi proclamare imperatore costituzionale, quindi non monarchico costituzionale, ma un nuovo imperatore che darà al popolo cinese la Costituzione. Sfortunatamente questa cosa non gli riesce, o perlomeno durerà poco, in quanto nel 1916, lui morirà a seguito di una malattia e quindi ritorneranno i piani di Sun Yat-sen e ritornerà il protagonismo di una certa classe politica cinese. Fondamentale capire che in questo periodo abbiamo due correnti che lottano tra di loro. Il riformismo, come abbiamo detto, che guarda molto all'Occidente, anche se l'Occidente purtroppo non aiuterà mai Sun Yat-sen e Sun Yat-sen successivamente nella fase finale della propria vita sarà molto critico con le potenze occidentali, che in tutti i modi cercheranno, e lo faranno, lo vedremo poi nelle prossime puntate, chiamiamole così, di approfittare della debolezza cinese, di questa grande confusione che è scaturita proprio dalla fine dell'ultimo imperatore, quindi al passaggio dalla dinastia Qing, quindi al grande retaggio imperiale, ormai arrivato alla decadenza, fino ad arrivare alla nuova concezione e alla zianguo fanglui, quindi la strategia della formazione del nuovo stato cinese. Dicevamo, nel 1916, Yuan Shikai muore, c'è una lotta intestina tra i vari generali, ricordiamo che Yuan Shikai aveva fondato la scuola di Beiyang, quindi a Baoding, a nord di Pechino, aveva fondato un'accademia militare per la modernizzazione dell'esercito e da lì usciranno moltissime figure autoritarie che guarderanno ad un'alleanza col Giappone e saranno contrari all'ideale di Sun Yat-sen. Uno di questi generali, generale Jiang Shun, alla morte di Yuan Shikai, cercherà in tutti i modi di restaurare addirittura l'ex imperatore, l'ultimo imperatore Pui, quindi si ha questi tentativi continui di modernizzazione e ritorno al passato, colpi di stati e caos, colpo di stato e caos dovuto ai simili, signori della guerra, gli warlord, che imperversano in molte parti della Cina. Siamo arrivati al 1917, è una data epocale, la Cina sta per entrare nel primo conflitto mondiale e parleremo alla prossima puntata. Ciao amici di Orientiamoci in Cina.